questo è un posto sicuro soffro di agorafobia non posso uscire di casa sto scivolando in uno stato mentale davvero oscuro allora che succede in strada la sua vicina è diventata sua amica e ha detto di chiamarsi jane russell ha voglia di uscire guardi ho il mio strizzo a cervelli 9-1-1 la mia vicina jane è appena stata con me detective lethal polizia di new york dov'è jane il signor russell crede che lei si sia sbagliata non ha mai conosciuto mia moglie signora sta bene io conosco jane jane è stata a casa mia sono jane russell non sono pazza io so ciò che ho visto nascondono tutti qualcosa ti l'ho detto non ha mai conosciuto mia moglie signora smetti di spiarci il medico ha detto che i suoi farmaci possono causare allucinazioni non ho le allucinazioni credo che ci sia qualcuno in casa non continui a guardare nelle case degli altri potrebbe avere amare sorpresa volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video ricordatevi inoltre di cercare screen week e di iscrivervi a tutti i nostri social youtube facebook twitter e instagram per ogni notizia sul cinema sulle serie tv per il gossip dell'ultima ora e le recenti video e le ultime uscite non perdetevi il nostro blog blog.screenweek.it volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone apple o android scaricate le nostre app screen week e screen week tv sono gratuite ciao